Poste italiane. Torna nel siracusano l'educazione finanziaria online per tutti i cittadini. Il 31 marzo i cittadini della provincia di Siracusa potranno partecipare al primo appuntamento del nuovo ciclo di nove incontri di educazione finanziaria dal titolo La gestione del budget familiare. Gli incontri, aperti a tutti, si svolgono in diretta streaming attraverso la piattaforma MS Teams Live. Per tutta la durata dell'evento i partecipanti potranno interagire via chat con i relatori e con gli esperti di educazione finanziaria di poste italiane. Durante la sessione del 31 marzo dalle 18 alle 19 gli esperti di poste italiane tratteranno la tematica del budget personale e familiare proponendo soluzioni per gestire correttamente le entrate e le uscite mensili, ridurre gli sprechi e organizzare al meglio le risorse disponibili Attraverso un linguaggio chiaro e diretto ciascun esperto fornirà ai partecipanti indicazioni concrete per risparmiare, proteggersi dagli imprevisti e compiere scelte economiche consapevoli e responsabili. Nei prossimi mesi sono previsti altri otto appuntamenti che tratteranno tematiche altrettanto fondamentali per la corretta pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di ciascun cittadino che voglia crescere le proprie competenze e gestire il proprio futuro economico. Anche questa nuova iniziativa di educazione finanziaria si muove nel segno della tradizionale attenzione di poste italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.